Molte persone ci hanno scritto, anche a me personalmente, su questa questione. Dice no, Fabio, parlatene della questione delle strade, autostrade, eccetera, perché qui in Italia ormai non puoi... Una parte di distrazione, qualcuno mi dice, addirittura mi scrive, è una persona che conosco, è questa teoria, che peraltro non è neanche molto peregrina, la ripete da anni. Guarda che molte distrazioni sono perché noi siamo costretti a controllare, ma mi sembra che qualcosa tu mi dicevi anche prima, a controllare queste cose, i cartelli per evitare, poi le multe, quelli dietro che mi vengono addosso, eccetera, quindi molti incidenti capitano proprio perché... Cioè alcuni limiti di velocità, i cartelli, sono in luoghi assolutamente inadeguanti. C'è uno sulla salaria che va da Roma a Rieti, subito dopo Osteriano, c'è un cartello 60 e con la macchinetta nascosta lì da anni, quindi lo sanno tutti ormai, no? Ma non ha senso perché la strada è una strada che può permettere i 90 normali in una strada extraurbana, cioè è una strada tranquilla, non c'è nulla, non ci sono dopo incroci, non c'è nulla che, diciamo, ragionevolmente ti dica che quel cartello sta lì per motivi di sicurezza. La gente arriva in una velocità normale, insomma, e poi si trova sta roba e tutti frenano e lì si sono verificati incidenti proprio per questo, capito? E quindi, e dice, guardate, in Germania ci scrive, ci scrive, vediamo un po', non è firmato, vabbè, comunque ci scrivono persone che vivono lì e che dicono, ok, dice sì, qui limite non ci sono in autostrada, tranne ovviamente in alcuni tratti particolarmente pericolosi, montagnosi, oppure a corsie molto più strette, quindi, sai, quelle due corsie che sono strettissime, proprio, non quelle due normali, dove lì non c'è problema, ma quelle più strette, è chiaro che hanno molte curve nelle montagne, eccetera, oppure lì ovviamente qualche limite ci deve essere. Però se fai un incidente, dice, le multe sono salatissime e c'è il ritiro di patente, dice, quei signori che hanno fatto, che hanno ucciso il bambino, la patente ne la vedrebbero più. Sì, sì, così dovrebbe essere. Ecco, voglio mostrare rapidissimamente, perché ci sta vedendo in tv, poi passiamo verso ascoltatori, ma lo rivedremo. Vabbè, qui c'è Repubblica che dice, ah, Salvini supera i limiti di velocità, vabbè, insomma, è una battuta per rompere le palle, ovviamente, all'avversario politico, no? Ecco. Mentre invece andiamo a vedere sul sito dell'Unione Europea quello che ci dice sulla sicurezza stradale nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, come vedete, ecco, andiamo subito al grafico, perché abbiamo le persone che ci aspettano in linea, eccolo qua. Sicurezza stradale dell'Unione Europea, se possiamo zoomare magari, perché questo grafico è molto interessante, credo che ci sia anche la versione immagine nella cartellina. Eccola qua, benissimo. Come vedete, l'Italia, insomma, nell'Europa, lasciamolo stare l'Europa dell'Est, è quella che ha la maglia nera, sostanzialmente, ok? Per gli incidenti stradali. Mentre invece la Germania, guardate, poi, in grigino chiaro, la Svezia addirittura è bianca, anche la Spagna, guarda, dove... Poi, se andiamo a vedere le vittime della strada in basso, ecco, poi, ripeto, sull'argomento andremo nei dettagli proprio dei singoli paesi, vediamo che gli incidenti, le vittime della strada, avvengono solo per il 9% in autostrada. E per tutto l'altro 91% vengono fuori. E i responsabili di questi incidenti, ma ripeto, vedremo la prossima volta con maggiore attenzione e maggiore... Questi sono dati dell'Unione Europea, non è che vengono da... Si dice, si stimato, dice, dico, dico... No, questi sono dati ufficiali, formali. E il 9% in autostrada, il 91% negli altri posti. Va bene? È ovvio, no? È aritmetico, questo anche prima elementare. I motivi? Per la maggior parte distrazioni, alcol, droghe e cose di questo genere. Stop. E anche manti stradali dissestati. Quindi la velocità è veramente in uno dei posti, è una eventuale conseguenza, ma non ha nulla a che vedere, intanto è che in autostrada, in Germania, questo non succede. Stop. Fine. Questo per dire le tante cose che accadono. Poi c'è un ministro che è criticabile per mille motivi, ma che fa una proposta ragionevole e subito la propaganda. Bam! Dove ti fa capire questo? Che l'interesse dei cittadini è in secondo piano. Il primo interesse è bastonare l'avversario perché mi ruba il potere, i soldi, il potere. Hai capito? Questi giornali non hanno interesse in noi cittadini. Che gli frega?